partiti in vantaggio Harvey Bullock con all'esterno Spy Story segue gettito con in corda Saxon andatura moderata nel primo tratto della gara poco prima dell'imbocco della curva di fondo con Spy Story che è in leggero vantaggio all'esterno del compagno di colori Harvey Bullock quindi gettito con all'interno Saxon Cavalli ora lungo la curva posizioni pressoché invariate Spy Story che si mantiene in vantaggio all'esterno di Harvey Bullock quindi gettito con all'interno sempre Saxon Cavalli ora prossimi all'ingresso in retta di arrivo con Harvey Bullock che all'interno torna in vantaggio sul compagno di colori Spy Story tra i due cerca spazio Saxon mentre più a largo sta scattando gettito siamo ora a 500 dal palo Harvey Bullock è attaccato da gettito Saxon ha scelto corsie esterne si profila ora ridosto dei primi con all'interno Spy Story a 300 dal palo Harvey Bullock e gettito sono attaccati all'interno da Spy Story e a largo da Saxon 4 cavalli in linea 200 dal palo Spy Story passa all'interno sul gettito mentre a largo sta scattando anche Saxon nel finale Spy Story è passato Saxon ci prova ma è Spy Story che si impone nei confronti di Saxon e gettito andiamo a rivedere le immagini con il numero 5 Spy Story che sembrava in difficoltà l'ingresso ma che poi nel finale si è ripreso per linee interne ed è riuscito a prevalere nei confronti del numero 3 Saxon quindi 5-3 il probabile e ufficioso arrivo della prima corsa di Napoli grazie a tutti